Dove trovare così i file di salvataggio di Dragon Ball Spark in 0, ovviamente è possibile andare direttamente su esplora risorse, come puoi vedere qui abbiamo la cartella Dragon Ball Spark in 0, quindi vai direttamente sul tuo disco, quindi vai semplicemente su questo pc, disco locale C, scendi fino a giù fino a trovare utenti, il tuo nome, Scendi fino a giù fino a trovare partite salvate e qui ci sono tutte le cartelle dei salvataggi, tutti i giochi a cui ho giocato e qui da Dragon Ball Spark in 0, clicco dentro la cartella ed eccoli qua, questi sono gli ultimi salvataggi, quindi gli ultimi salvataggi che mi ha salvato sul gioco e che sono riuscito a trovare in questa cartella qua, quindi per altri problemi ancora puoi commentare sotto al video e noi ragazzi ci vediamo ad un prossimo tutorial, ciao!